I dati sono impietosi. Nei primi sei mesi del 2022 abbiamo registrato l'anno più caldo e più secco di sempre, almeno a memoria dei nostri strumenti. Non fanno eccezione Prato e Provincia, con i loro corsi d'acqua. La situazione non è drammatica come altrove, ma è già grave e si nota la differenza rispetto al recente passato. Anche gli animali di fiume sono spaesati. I pesci crescono stipati in pochi centimetri in ridotti volumi d'acqua. Gli uccelli tornati sul Bisenzio fin dagli anni 90 sono scesi in gran parte fino a gonfienti ai confini con Campi-Bisenzio, dove la pendenza del fiume è tale da mantenere in equilibrio ridotte ma continue pozze d'acqua corrente. Più a nord, sempre sul Bisenzio, chi prima lasciava il cagnolino libero di nuotare, adesso cammina in mezzo al fiume, cane al seguito, senza correre il rischio di incappare in una buca più profonda o di bagnarsi più in su dei risvoltini. C'è chi non trova da dissetarsi neppure nel rio Buti e dalle pietre dove scorreva più di un filo d'acqua anche d'estate finisce dopo un attimo di perplessità e smarrimento per far marcia indietro. I pesci resistono e chi in Bisenzio si ostina a pescare lo fa camminando su un tappeto verde di alghe. La pescaia di Santa Lucia fa impressione, cemento e basta. Era già successo ma non con tutto questo bianco di fronte agli occhi dalla parte bassa. L'acqua che arriva al fiume la porta quasi esclusivamente una falla nella vecchia paratoia di legno del Cavalciotto. Anche il rio Buti, nei suoi cinque chilometri di corso repentino, se la passa male. E dire che non è un torrente affidato ai semplici capricci del meteo e al susseguirsi delle stagioni, bensì un ruscello con sorgenti proprie. Il rio Buti, che sfocia poche centinaia di metri da Santa Lucia, è il corso più amato dai pratesi per i tuffi. Le sorgenti producono però solo un filo d'acqua che non basta adesso a portar via polvere e fogliame caduti dal bosco. Fare un tuffo, certo, è possibile anche quest'anno ma non è come le altre volte, non è altrettanto bello. A salire in Val di Bisenzio non va troppo meglio. L'acqua c'è ma pare ristagnare anche laddove prima scorreva lenta d'estate e gran parte degli affluenti di destra e di sinistra sono rami secchi, quasi sempre. Un velo pare coprire l'acqua, il cui livello si è abbassato, mentre il letto del fiume si è ristretto lasciando posto ai ciottoli, ai rami secchi e ai peggiori esempi di inciviltà come escrementi, bicchieri e stoviglia di plastica, mozziconi di sigaretta con relativi cattivi odori. In certi punti fare il bagno è sempre possibile, a patto che qualche sbarramento aiuti il Bisenzio a creare una pozza, ma non ci si tuffa più come l'anno scorso, ci si immerge al massimo fino alle ginocchia.